Sono stati concessi gli arresti domiciliari a Ossain Shah Dat, l'imam bengalese arrestato il 1 ottobre con l'accusa di picchiare i suoi piccoli alunni della scuola coranica all'interno del centro culturale islamico di via Jacopo da Montagnana, Larcella. Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Mattino di Padova, il Tribunale del Riesame di Venezia ha attenuato la misura cautelare della detenzione in carcere, consentendo all'uomo di scontare gli arresti domiciliari a casa di un connazionale che risiede a Treviso. Intanto le indagini continuano e la squadra mobile avrebbe avviato degli accertamenti anche sul predecessore dell'imam 23enne, che sarebbe stato immortalato mentre picchiava i bambini. Le foto infatti sarebbero state scattate a luglio, mentre l'imam finito in carcere è arrivato a Padova ad agosto da Treviso, proprio per sostituire il precedente maestro che era stato allontanato dalla comunità. Una versione che coincide con quanto ci aveva raccontato il 1 ottobre, poche ore dopo l'arresto, uno dei responsabili della comunità bengalese. Inoltre già a maggio alcune maestre di una scuola elementare padovana frequentata dai bambini bengalesi avevano notato lividi sulle braccia dei piccoli alunni. Mio figlio ogni tanto chiede come si vanno, come si trattano, perché questa è la nostra responsabilità per capire come si vanno andando avanti. Poi mio figlio ha detto che questo maestro è più migliore degli altri. Per quello la parola sua la ritengo anche, perché io due o tre volte ho parlato con lui anche. Prima di lui aveva un altro insegnante che faceva maltrattamento, però non è schiaffa, non è che faceva la scalcio, non può essere questo coso. Però abbiamo eliminato questo ragazzo che studiava là. Grazie. 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 Grazie.